Musica Oggi parliamo di mutui di credito al consumo, ben ritrovati ad una nuova puntata dei vostri soldi, la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale. State pensando di comprare caso? Volete accendere un nuovo prestito? Ebbene la puntata di oggi fa davvero al caso vostro, ma in generale qui ogni giorno, dal lunedì al venerdì a quest'ora parliamo di carte di credito, parliamo di casa, parliamo di tasse sicuramente, di botte e bond, di assicurazioni e polizze. Questi soltanto alcuni dei tantissimi argomenti che trattiamo quotidianamente e soprattutto vi mettiamo a disposizione degli esperti, esperti estremamente preparati su tutti questi settori. Gli esperti li potete contattare chiamandoci al numero di centralino 0258 29585. Vedete in sovraimpressione tutti i nostri contatti, c'è il numero per i vostri messaggi sms, il 366-6282-858, la nostra email, i vostri soldi, chiocciola, class.it, il nostro account twitter, at classCNBC. Subito gli argomenti, ma solo alcuni degli argomenti che tratteremo oggi con i già citati esperti per quanto riguarda la sezione mutui. Parleremo dei tassi, noi l'abbiamo già detto più volte, a febbraio sono finalmente scesi un po', sono al 3,4%, adesso arriva anche la certificazione dell'ABI. Sempre per quanto riguarda la prima parte, la puntata di oggi dei vostri soldi nella sezione mutui, parleremo anche dei consigli per non sbagliare mutuo. Sono sei, sono tutti estremamente importanti, avremo un esperto in studio che ci racconterà uno ad uno. Seconda parte invece è dedicata al tema del credito al consumo, in particolare ai prestiti, parleremo delle assicurazioni sui prestiti e in particolare i loro costi, li metteremo un po' a confronto, quali sono le assicurazioni obbligatorie e quelle facoltative. Ma introduciamo subito nella sezione mutui i nostri esperti che ci fanno compagnia, li vedete già inquadrati, accanto a me c'è Guido Bertolino di mutuisupermarket.it. Ben ritrovato Guido, grazie. Buonasera, grazie per l'invito. Accanto all'autore Bertolino un altro volto noto dei vostri soldi, quello del dottore Renato Landoni che è presidente di Chiron. Ben ritrovato Presidente. Buonasera. Guido, noi l'abbiamo già detto più volte dalle telecamere dei vostri soldi, a febbraio finalmente gli spread sono scesi, quindi complessivamente quello che è il tasso del mutuo si è un po' ridotto. Adesso arriva anche la certificazione dell'ABI che dice che nello scorso mese di febbraio, del febbraio 2014 siamo al 3,4% dal precedente mese di gennaio che era al 3,5%. Una tendenza finalmente in calo e che ci riporta, leggo sempre dalla relazione dell'ABI, ai minimi dal settembre 2011, così? Eh sì, sono proprio i minimi anche perché questo tasso ridotto è dovuto a due componenti, l'indice Euribor cui sono indicizzati fondamentalmente i mutui variabili che grossomodo rappresentano il 70% delle erogazioni attuali, che è rimasto più o meno staticamente ai minimi storici e poi ha contribuito molto alla riduzione degli spread e nel mese di febbraio si è assistito a una riduzione dei migliori spread grossomodo di 10 punti base, si è passati dal 2,60 al 2,50. Ci si aspetta che nel mese di marzo un'ulteriore riduzione, dal momento che i migliori spread sono anche lì in alcuni casi scesi ancora sotto la soglia del 2,50. Le risulta al suo osservatorio di Chiron, Presidente Landoni, effettivamente questa riduzione, ma soprattutto quello che è interessante, non è tanto la riduzione rispetto al mese di gennaio che alla fine è quasi minima, dal 3,5 al 3,44%, ma soprattutto essere tornati ai livelli del settembre 2011 per chi segue la finanza vuol dire i livelli pre-Liman Brothers. Direi di sì, diciamo c'è la tendenza in generale da parte del mondo bancario a offrire prodotti più competitivi rispetto al 2013, quindi dopo un periodo diciamo abbastanza particolare, da gennaio in avanti cominciamo a vedere una piccola luce in questo settore. Molto bene, cercheremo di capire se la luce diventa sempre un po' più grande mano a mano che ci avviamo alla seconda parte dell'anno 2014. A proposito di Mutui, Presidente Landoni, su MF Milano Finanza ho letto proprio in questi giorni che ci sarebbe un boom delle surroghe, che effettivamente vedrebbero molti italiani interessati a rottamare il vecchio mutuo magari a tasso fisso con un nuovo mutuo a tasso variabile. Innanzitutto le risulta, perché poi non credo che tutti siano così d'accordo. Diciamo che è iniziata una nuova primavera, un po' in anticipo. È chiaro che dopo il periodo che conosciamo, su andamento di Mutui, che ha avuto delle forti riduzioni in questi anni, le banche, come dicevo prima, a livello di offerta, stanno ripresentando questo tipo di prodotto. Parlare che diventa un prodotto poi che sarà fortemente presente sul mercato nei prossimi mesi, per me è ancora presto. È ancora presto. Quindi sarebbe cauto rispetto a chi ha appunto invece detto che è un vero e proprio boom quello della surroga in Italia. Guido, tu cosa ne pensi? Dal tuo osservatorio c'è questo, italiani tutti pazzi per il mutuo in surroga? Pazzi magari è ancora una parola grossa, però effettivamente noi avevamo notato già nell'ultimo trimestre del 2013 un incremento, in particolare a partire da novembre. La domanda dei mutui di surroga è salita dal grosso modo 9-10%, è arrivata al 12% e stabilmente rimane su quelle soglie. Il tema qui è dovuto fondamentalmente dall'offerta delle banche. Vi sono alcuni istituti, uno in particolare che è BNL, che sta spingendo molto su questo prodotto, è l'unico istituto ad oggi che offre i medesimi spread sulla surroga e sull'acquisto, sui mutui di acquisto, per giunta finanzia anche della liquidità in eccesso oltre la surroga. E questo sta spingendo molto la domanda, però appunto guidata in realtà dall'offerta. Quindi è soprattutto una questione di marketing. Abbiamo visto prima una percentuale importante tra l'ultimo trimestre del 2013 e il primo trimestre del 2014. Si passa sempre parlando dei mutui in surroga. Guido da un 63%, se ricordo correttamente, al 70% per quanto riguarda il variabile. Questo è esattamente il segnale che ci dice che gli italiani si stanno spostando sempre più in massa verso il mutuo a tasso variabile? Decisamente sì. Ricordiamo che nel terzo trimestre del 2013 era il 54%, quindi proprio si è passati in sei mesi. Ecco, spiegacelo bene. Quindi prima nel 54% era il terzo trimestre, adesso noi vediamo nella nostra grafica il 63% e adesso è arrivato al 70%. Questo proprio perché i mutui a tasso variabile sono quelli che hanno beneficiato maggiormente negli ultimi mesi della riduzione degli spread. Quindi sono diventati più convenienti rispetto agli altri prodotti che in realtà vedono i loro spread più o meno fermi o statici, soprattutto nell'ambito della surroga, diverso il discorso dell'acquisto. E quindi la domanda è stata catalizzata tutta verso il prodotto variabile, soprattutto da chi ha già un mutuo magari a tasso fisso che riesce a ottenere un bel risparmio sulla rata. E vedo soprattutto che si sta riducendo la percentuale del variabile con cap, perché alla fine invece il mutuo a tasso fisso è quasi stabile rispetto all'ultimo trimestre. Come lo leggi questo dato, Guido? Sì, diciamo che il mutuo a tasso fisso risponde a un'esigenza, non tanto quella del risparmio, ma più che altro della tranquillità sulla certezza della rata, quindi non avere una rata variabile. E quindi la domanda è sempre più o meno... C'è uno zoccolo duro che non viene mai aggredito, diciamo. Invece la domanda del variabile col cap, siccome il variabile col cap ha mantenuto degli spread significativamente più alti, anche in lieve aumento, si è passati dal 3,60 della fine del 2013 anche al 3,90, in alcuni casi, diciamo, è risultato meno conveniente. Quindi la domanda si è spostata più verso il prodotto di punta, più conveniente che il variabile. E così Guido ha commentato per noi tutti i dati che abbiamo visto con la nostra grafica. Ma che la crisi sia tutt'altro che conclusa, però, Presidente Landoni, lo vediamo anche dall'importo che viene erogato dalle banche, dalle finanziarie che lei qui rappresenta, perché c'è un ulteriore ribasso anche nel mese di febbraio del 2014. Risulta anche a lei, cioè si riaprono un po' i cordoni della borsa, ma con molta cautela, perché poi il mutuo che effettivamente viene sia richiesto che poi erogato è un po' più piccolo. Diciamo che c'è un leggero miglioramento in termini di interessi, quindi l'offerta, come abbiamo visto e come il collega ha detto bene prima, troviamo nuovi prodotti, vedi per esempio la surroga. Però non è cambiata, a meno per quanto ci riguarda in generale la politica di credito da parte delle banche. Rimane una politica attenta, perché la situazione economica e finanziaria del Paese è quello che conosciamo e quindi le banche mantengono una politica accorta in termini di valutazione. E ancora ce lo dobbiamo aspettare per i prossimi mesi, Presidente? Sì. Non ci dobbiamo attendere neppure il plafond casa, di cui parleremo poi in conclusione della prima parte, la puntata di oggi dei vostri soldi. Guido, però con te affrontiamo subito quelli che sono i sei passi per non inciampare e per non sbagliare nel momento in cui si chiede un mutuo. Ti abbiamo chiesto di stilare proprio sei consigli pratici per i telespettatori dei vostri soldi, che cosa devono guardare con attenzione prima di accendere un mutuo. Dicevamo quindi che ci hai fornito questi sei consigli pratici. Iniziamo da pensare al mutuo sin dall'inizio. Che cosa intendi? Sì, assolutamente. Bisogna verificare che l'immobile sia finanziabile con un mutuo, ovvero non deve provenire da donazione. Le banche difficilmente intervengono, diciamo quasi mai intervengono, nel finanziare immobili che hanno avuto nella loro storia un passaggio di proprietà tramite donazione. Quindi questa è la prima domanda. Ci sono tante domande dei nostri telespettatori proprio sulla donazione. Invece quindi pare molta attenzione nel momento in cui si vuole comprare una casa che è stata donata dalla persona che vuole vendere. Assolutamente, chiedere subito al venditore come è venuto in possesso dell'immobile. Se acquisto, eredità, nessun problema. Altra cosa, quando si fa... Andiamo al consiglio numero due. Sì, giusto. Il consiglio numero due, scegliere il mutuo in funzione della rata che poi si dovrà andare a pagare. Gli istituti di credito intervengono, diciamo, concedendo mutui quando la rata non supera un terzo grosso modo del reddito disponibile. Quindi prendere in considerazione questo proprio per la sostenibilità finanziaria del mutuo. altro consiglio, chiedere sempre, se si sceglie un prodotto a tasso variabile, quanto aumenterà la rata in caso di aumento di due punti percentuali dell'indice Euribor nei prossimi 3-4 anni, che è un aumento pressoché scontato e atteso da tutti i mercati. E in effetti ricordiamo, per esempio, proprio che in America ci dovrebbe essere un rialzo dei tassi nel 2015, chissà che poi anche il nostro Mario Draghi non lo segua. Il consiglio numero 3 mi sembra fondamentale, Guido, perché hai selezionato l'identikit dei vari richiedenti dei mutui a seconda del tasso. Quindi il variabile più consigliato ai giovani, il fisso agli under 60 in pensione o a fine carriera, adesso ce lo spiegherai, il tasso variabile con cap ai giovani con figli. Che cosa intendi? Allora, non esiste un tipo di tasso giusto per tutti. Fondamentalmente dipende dalle proprie aspettative reddituali. Un giovane inizio carriera che probabilmente ha anche buone possibilità di aumentare il proprio reddito mensile probabilmente ha convenienza sottoscrivere un mutuo a tasso variabile perché risparmia nell'immediato e sarà in grado, grazie all'aumento del proprio stipendio, a sostenere eventuali aumenti della rata. Il tasso misto l'abbiamo suggerito alle coppie giovani, magari ancora senza figli, perché il tasso misto consente ogni due o cinque anni, a secondo del prodotto, di optare per un mutuo a tasso variabile o a tasso fisso e per le giovani coppie magari la nascita di un figlio che costringe a sostenere delle spese rilevanti, magari poter passare dal risparmio del variabile a una rata fissa con la certezza di un budget mensile allocato appunto per la rata può essere una buona risposta. E invece andiamo al 3.b, il variabile con K, dicevamo, gli under 40 con figli e il tasso fisso. Cosa intendi? Under 60 in pensione o fine carriera? Diciamo, le persone in fine carriera o in pensione non hanno, ahimè, grandi aspettative di aumento dei propri redditi, anzi, se poi dal lavoro passeranno alla pensione probabilmente vedranno una diminuzione del loro reddito mensile. Di conseguenza il tasso fisso consente di allocare una cifra mensilmente sempre stabile appunto destinata al mutuo e consente una migliore pianificazione finanziaria delle famiglie. Ed è un motivo per cui consigliate o comunque invitate a riflettere, a prendere un mutuo a tasso fisso proprio per questa categoria. Prima di vedere anche insieme con la nostra grafica i consigli 4, 5 e 6 sentiamo se il presidente Landoni è d'accordo con ciò che ci ha appena proposto Guido Bertolino. Non si offende Guido. No, diciamo che va tutto bene, quindi concordo pienamente. vorrei aggiungere una parte, diciamo, in più che è il post-erogazione. Quindi abbiamo scelto il prodotto fisso variabile con cap, però dobbiamo poi ricordarci che abbiamo fatto un mutuo e almeno direi una volta all'anno parlare o con un consulente o con una banca per capire se la scelta che abbiamo fatto è da portare avanti oppure da rivedere. Una sorta di check-up? Parla di surroga magari o di rivisitazione del prodotto scelto. Questo mondo viene un po' dimenticato. Mi sembra un ottimo suggerimento, una sorta di check-up annuale per capire dove stanno andando i tassi, soprattutto se si ha il variabile o se si ha il fisso, la differenza di rata rispetto al variabile. Andiamo al consiglio numero 4, qui è molto interessato il tuo consiglio. Dici comparare le offerte, però al di là della battuta, ovviamente Mutui Supermarket è un sito comparatore, mi sembra un ottimo suggerimento e su questo punto di vista internet ha dato una grande mano. Assolutamente, mai limitarsi alla prima offerta tipicamente della propria banca, ma serve proprio a contrattare meglio con gli istituti, rivolgersi a più istituti, ottenere più preventivi in modo da fare una scelta più consapevole e contrattare magari meglio anche col proprio istituto. Questo è il consiglio fondamentale. E poi confrontare sempre i TAEG, non solo la rata o il TAN, ma il TAEG che è l'unico indicatore del costo complessivo del mutuo, che tiene conto appunto di tutte le spese di istruttoria, perizia, imposte, eventuali spese assicurative. Concludiamo con il 5 e il 6, come consigli il 5, verificare tempi in modalità di erogazione, per quanto riguarda il consiglio numero 6, molto molto di buon senso, avere sempre una copia del contratto, Guido. Sì, assolutamente, chiedere sempre copia del contratto prima di andare in stipula ed eventualmente chiedere suggerimento al notaio per comprendere meglio e approfondire i termini tecnici, per quanto riguarda le tempistiche, considerare sempre che un istituto di credito impiega 40-50 giorni, dalla consegna della documentazione completa alla stipula. Quindi mai firmare compromessi con dei tempi troppo rigidi. Si rischia di perdere la caparra in quel caso. Anche in questo caso ottimi consigli. Speriamo davvero di aver dato qualche suggerimento, quantomeno di aver fornito, diciamo così, del materiale su cui riflettere ai nostri telespettatori interessati ad accendere un mutuo. Invece per quanto riguarda i condomini, voi di Chiron state prospettando proprio a questo settore estremamente interessante una particolare assicurazione. Di cosa si tratta? Sì, un finanziamento che in questo momento eroga BNL, con cui abbiamo una convenzione, è un prodotto nuovo che permette al condominio, per esempio, di ottenere un finanziamento attraverso una procedura, direi, semplificata, per esempio, per la ristrutturazione o per la parte relativa ai impianti fotovoltaici. Quindi c'è questo tipo di possibilità, con durata fino a cinque anni. È un'iniziativa nuova. Come sta andando in queste settimane? Abbiamo iniziato da poco. Abbiamo iniziato da due mesi, quindi è un po' presto per fare un po' un punto definitivo. Aspettiamo poi, fra qualche mese, ci dirai esattamente come sta andando. Intanto proviamo a rispondere a un po' di telespettatori, proprio al presidente. Landoni chiedo di dare una risposta a Giorgio, che ha una casa con un mutuo di 100.000 euro, vorrebbe venderla per ristrutturare un altro immobile, aprendo un nuovo mutuo. La casa è stata valutata a 70.000 euro. Se la vendessi a questa cifra, i restanti 30.000 potrebbero essere sommati al nuovo mutuo, Landoni? Direi di no, nel senso che il cliente, quando acquista l'altro immobile, deve rifare una nuova domanda di mutuo, ottenere un altro mutuo e comunque estinguere quello precedente. Quindi deve versare 30.000 euro differenti. Chiarissimo. Andiamo a Lucia, invece, per Guido Bertolino, che ha un mutuo con garanzia ipotecaria pari al 150% dell'importo erogato. Ne ha trovato uno più vantaggioso, però qui la garanzia è al 200%. La surroga è possibile? Bisogna vedere. Ovviamente questo 200% sarà il 200% dell'importo residuo del mutuo, quanto rimane ancora da pagare. Se questo 200% rientra nell'iscrizione ipotecaria precedente, allora si potrà intervenire. Altrimenti questo non è possibile, perché con la surroga non si iscrive una nuova ipoteca, ma si trasferisce la vecchia al nuovo istituto. Quindi bisogna verificare quanto è l'importo residuo del mutuo. Chiarissimo, ti chiedo una risposta telegrafica anche a signor Gennaro via sms. Ho diritto a una copia del piano di ammortamento della mia banca, questo mi sembra... Assolutamente sì, sempre prima di andare in stipula. Landoni, rapidamente, Salvatore, sempre via sms, il 366-6282-858. Nostro amico Salvatore dice Devo riscattare la casa popolare per 27 mila euro, gli servono 12 mila euro. Dei benefici con le ultime misure di Renzi? Direi di sì, è stato sostituito un fondo, sono circa 18 milioni di euro, però manca il provvedimento attuativo, che andrà praticamente ad applicare uno sconto sugli interessi. Benissimo, quindi continui a seguirci. Dobbiamo ancora aspettare... Per capire esattamente qual è il vantaggio per il nostro amico. Grazie a entrambi gli ospiti che ci hanno fatto compagnia nella sezione dedicata ai Mutui, soprattutto si sono prestati a rispondere alle domande sempre interessanti ai nostri telespettatori. Un grazie a Guido Bertolino, MutuiSupermarket.it. Guido ti aspetto prestissimo. Grazie. Un ringraziamento che estendo immediatamente al presidente di Chiron, Renato Glandone. Grazie, buonasera. Grazie. Noi ci separiamo per un breve istante di pubblicità, pubblicità come sempre introdotta da un bel aforisma. Abbiamo scelto Winston Churchill per introdurre la seconda e ultima parte, la puntata di oggi dei vostri soldi dedicata al credito al consumo, in particolare al mondo dei prestiti. Subito i nostri due nuovi ospiti esperti che ci hanno raggiunto. Accanto a me altro volto amico dei vostri soldi, quello di Giuseppe Piano Mortari, che saluta e ringrazio. Ricordo essere direttore operativo di Assofin. Un altro Giuseppe, Giuseppe Foti, accanto a Piano Mortari. Giuseppe Foti è responsabile di Consum a Milano. Benvenuto, Torfoti. Con loro parliamo delle assicurazioni sui prestiti, un argomento che avevamo accennato, avevamo trattato in realtà ma soltanto di striscio qualche settimana fa qui all'interno dei vostri soldi. E allora, perché sappiamo che con la crisi alcuni perdono il posto di lavoro, alcuni chiedono di saltare una o più rate del prestito ed esistono delle assicurazioni proprio che riescono a mettere al riparo da questi eventi. Ma nell'ambito del mondo dei prestiti, e qui chiedo subito a Giuseppe Piano Mortari, le assicurazioni si dividono in due categorie, quelle obbligatorie e quelle invece accessorie o facoltative. Quelle obbligatorie però ci spiegava proprio da quella poltrona il professor Filotto, sempre di Assofin, sono poche, sono molto specifiche. Quali sono? Quelle obbligatorie sono quelle che sono considerate obbligatorie da chi eroga il finanziamento e quindi ne chiede la presenza per poter erogare il finanziamento. Quindi se una banca dice io sono disponibile a fare il mutuo ma solo a condizione che ci sia una polizza incendio e scoppio che garantisce nel caso in cui avvenga qualcosa all'immobile e questa è la prassi, cioè questo tipo di polizza è considerato obbligatoria nel senso che tutte le banche vogliono che sia presente questa cosa. Ecco, quindi questa è una di quelle assicurazioni obbligatorie perché non è che è prevista per legge, però tutte le banche hanno deciso che vogliono la polizza incendio. Non ne possono fare a meno, sì. E questa è obbligatoria. Scoppio e incendio. Perfetto. Mentre sono facoltative quelle che il cliente può scegliere di avere oppure no. Quindi è lui che decide se proteggersi da determinati eventi e in questo caso interviene nella garanzia assicurativa a copertura delle rate del finanziamento. E queste sono accessorie. Quali sono le più frequenti, Giuseppe? Ma quelle che coprono la primorienza del titolare del finanziamento, cioè il decesso, evidentemente nel caso in cui un titolare di un finanziamento muoia i figli ereditano anche il debito, ma appunto se c'è la copertura assicurativa copre il pagamento delle rate al posto degli eredi. E ancora infortuni e malattie, che anche in questo caso vanno a coprire decesso per malattia, oppure malattia che comporti un periodo di inabilità, e ancora perdita del posto di lavoro. La più tipica, cioè va a coprire per un certo periodo le rate del finanziamento, fin tanto che il titolare della garanzia non abbia trovato un altro posto di lavoro. Ma in quel caso la finanziaria o la banca comunque è appunto assicurata, garantita, perché continuano a versargli le erate. Di queste polizze accessorie, prima chiedo ad Assofin, poi anche ad Iconsum, quest'ultima in particolare che garantisce rispetto alla perdita del posto di lavoro, ma ovviamente lato prestiti, il pagamento del prestito stesso, del mutuo, di quello che è. C'è stato un boom negli ultimi mesi, in questi ultimi anni, di crisi così pesanti in Italia? Certamente negli ultimi anni c'è stata una grossa crescita della domanda, proprio in considerazione del fatto che il rischio di perdita del posto di lavoro è diventato, come dire, meno distante, più frequente, e dunque molti consumatori hanno ritenuto opportuno sottoscrivere questo tipo di polizze. Vi risulta, voglia di consume, come valutate queste polizze che poi vanno ovviamente a far lievitare il costo totale del prestito per il consumatore o comunque per chi si fa finanziare. Sì, purtroppo ci risulta, dico purtroppo perché naturalmente questa cosa è determinata da una situazione di disagio e quindi di difficoltà del cliente, del consumatore. A me risulta in maniera particolare perché io mi occupo di consumatori da poco, prima ho lavorato per tanti anni nel sindacato e quindi negli ultimi anni diciamo dal 2006, forse anche prima in poi, c'è stato un aumento delle situazioni di difficoltà all'interno dei posti di lavoro con un aumento addirittura stratosferico per esempio del numero di ore di cassa integrazione che comportano un abbattimento del reddito per il nucleo familiare e molto spesso mettono le persone in difficoltà rispetto al pagamento per esempio del mutuo o di prestiti che si sono diciamo accesi in un momento in cui la condizione economica del nucleo familiare era diversa. Ma quando arrivano queste situazioni purtroppo la persona o la famiglia entra in una situazione di estrema difficoltà e noi nei nostri uffici di adiconsum a Milano negli ultimi mesi ma anche l'anno scorso c'è stata un'accentuazione fortissima verso la fine dell'anno scorso e nei primi mesi di quest'anno di persone che sono venute da noi a chiedere informazioni avendo sottoscritto un prestito avendo sottoscritto una polizza accessoria a un prestito e chiedendoci se c'è la copertura effettivamente oppure no perché il problema è che molto spesso queste polizze diciamo nascondono delle nascondono per modo di dire bisogna leggerle con attenzione queste clausole che cosa nascondono tra virgolette per esempio facciamo un esempio la perdita del posto di lavoro si può pensare che sia una cosa molto semplice ma in realtà non è così perché il posto di lavoro lo si può perdere perché si viene licenziati o lo si può perdere perché a seguito della crisi dell'azienda si è costretti tramite accordo sindacale o accordi particolari a dare le dimissioni e quindi in quel caso la polizza non copre non garantisce non copre nulla si perde il posto di lavoro ma la polizza la crisi di dimissioni non rientra nella fattispecie però ci sono molte situazioni di crisi nelle quali si è costretti a dare le dimissioni perché gli accordi che vengono fatti è il caso per esempio di molti esodati che sono stati diciamo sono entrati un po' in questa casistica io vorrei adesso affrontare proprio il tema dei costi proprio con piano mortari perché anche nella prima parte dedicata ai mutui abbiamo ricordato il famoso TAEG ne parliamo tutte le settimane in realtà qui ai vostri soldi perché ci teniamo molto a sottolineare l'importanza che questo indicatore ha nel momento in cui si sottoscrive un mutuo piuttosto che si accende un nuovo presito bene queste polizze queste assicurazioni sia quelle accessorie che quelle obbligatorie rientrano poi in questo TAEG Giuseppe? sulla base della normativa in vigore le polizze obbligatorie devono necessariamente essere incluse nel calcolo del TAEG dice la norma rientra nel calcolo del TAEG le polizze che sono obbligatorie per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte se cioè si dice questo mutuo te lo offro al tot per cento a condizione che ci sia questa polizza ecco quella polizza va inclusa nel calcolo del TAEG se viceversa il cliente sceglie liberamente di aderire a una polizza che lo copre da uno degli eventi che abbiamo ricordato prima in questo caso le polizze possono legittimamente essere escluse dal calcolo del TAEG sono molto costose le polizze accessorie e foti nel momento in cui vado a chiedere un prestito alla finanziaria la finanziaria o me lo impone come nel caso dei mutui abbiamo capito che tutte le banche chiedono scoppio e incendio oppure se mi consigliano magari perché sono un giovane un po' precario di accendere questa nuova polizza assicurativa quanto costano? diciamo che non è possibile così fare un calcolo perché dipende dal prezzo delle singole compagnie dipende dal tipo di prestito o di mutuo dipende ci sono una serie di variabili che rendono difficile determinare una media però è chiaro che insomma una piccola incidenza ce l'hanno non sono polizze che soprattutto quelle relative ai mutui una discreta incidenza ce l'hanno anche se noi come associazioni dei consumatori consigliamo comunque di valutare attentamente e di preferibilmente farle queste polizze quindi il vostro consiglio è farle quindi vi trovate sulla stessa barricata delle banche delle finanziarie che immagino spingano molto ma io credo che noi crediamo che in questa fase che è quella di cui parlavamo prima di crisi economica molto grave molto pesante ci sia la necessità per i consumatori per i singoli consumatori di proteggersi e quindi valutato attentamente valutate attentamente i costi e l'effettiva utilità della singola polizza il nostro consiglio è preferibilmente di proteggersi quindi se uno ha la possibilità poi magari in una delle prossime puntate cerchiamo di capire bene i costi presi dei casi concreti è meglio sottoscrivere queste polizze inutile chiedere ovviamente ad Assofin perché sono poi proprio le finanziarie e le banche a proporle a proposito di Assofin di Abi e delle associazioni dei consumatori è stata firmata proprio nelle scorse settimane ci aveva raccontato il professor Filotto qui dalle telecamere dei vostri soldi un vero e proprio protocollo sulle assicurazioni legate ai prestiti in che cosa consistono questo protocollo Giuseppe Piano Mortale sì la cornice la cornice è questa autorità sia a livello internazionale che nazionale hanno messo hanno acceso un faro nei confronti delle polizze facoltative ritenendo che si possano nascondere alcune criticità legate a una trasparenza non sempre cristallina nell'offerta delle polizze e attività di cosiddetto misselling in sostanza vengono secondo le autorità in alcune circostanze vendute in maniera non corretta di fatto imposte al consumatore nel senso che il consumatore sarebbe costretto ancorché la polizia è facoltativa a sottoscrivere per poter ottenere il finanziario non ti do il prestito se tu non sottoscrivi questa non sottoscrivi anche questa polizia ancorché la polizia sia facoltativa questa è si è verificato certamente in alcuni paesi dove si è arrivati a vietare la venda delle polizie assicurative l'Inghilterra da noi questo fenomeno è molto più contenuto tuttavia anche l'autorità italiana hanno detto attenzione forse bisogna ragionare e arrivare a una soluzione inglese per evitare che questo avvenga abbiamo ritenuto di proporre un protocollo e le associazioni consumatori hanno molto apprezzato il contenuto di questo protocollo che prevede alcune cose importanti la prima è la garanzia di massima trasparenza in fase precontrattuale garantita dal fatto che viene evidenziato ancora più chiaramente di quanto non sia fino ad oggi che la polizia è facoltativa e anche il fatto che viene incluso un secondo indicatore oltre al TAEG che include anche le polizie facoltative quindi si va al di là di quello che è previsto dalla legge che è quello che ricordavo prima cioè solo le polizie obbligatorie del TAEG ma si include in un secondo indicatore anche le polizie facoltative come si chiamerà questo indicatore così cominciamo già a prendere un po' di confidenza quindi troveremo il TAN il TAEG e questo altro indicatore questo altro indicatore non ha un acronimo perché su diciamo indicazione espressa della Banca d'Italia si deve chiamare indicatore di costo comprensivo anche delle polizie assicurative proprio perché non si vuole creare troppa confusione al consumatore se invece vede il TAN il TAEG e poi il TAEG P per esempio con aggiuntiva la polizia potrebbe confondersi per evitare questo rischio Banca d'Italia ha dato questa indicazione ma l'aspetto più importante del protocollo secondo me è quello che riguarda l'invio dopo la stipula del contratto di finanziamento dopo che il cliente ha già in tasca il contratto di finanziamento gli arriva una lettera in cui gli si ricorda guarda che tu hai stipulato anche una polizza puoi entro 60 giorni recedere dalla polizza mantenendo il finanziamento quindi di fatto è garantita la certezza di libertà di facoltà dell'esercizio dell'acquisto Piano Mortari ha detto che le associazioni di consumatori hanno sicuramente apprezzato molto qualcuno direbbe ma perché allora non dare invece l'avallo a quello che è stato fatto in Gran Bretagna visto che lì sta funzionando che cosa vi piace in particolare di questo protocollo che avete firmato? Ci piace la la presa d'atto della necessità di dare chiarezza e trasparenza al consumatore su quello che viene offerto e su quello che il consumatore alla fine sottoscrive perché come dicevo prima e come diceva anche il dottor Piano Mortari spesso queste polizze non sono molto chiare e quindi alla fine non garantiscono il risultato per cui il consumatore le sottoscrive come dicevo prima da noi purtroppo c'è stato un aumento veramente alto di persone che si rivolgono chiedendo a noi consulenza e poi noi alla fine scopriamo che effettivamente la polizza in quel caso non copre o perché la malattia viene considerata preesistente o per insomma le compagnie cercano molti cavilli che spesso però poi ci sono effettivamente nel contratto quindi la possibilità di dare chiarezza certezza sulla trasparenza di questi contratti per noi era fondamentale e questo accordo va in questa direzione Benissimo e soprattutto anche questo diritto di ripensamento per 60 giorni mantenendo il prestito mi sembra davvero un passo avanti nella tutela dei consumatori a proposito di consumatori Piano Mortari monitorata che è già abbastanza significativo e chiaro in realtà il titolo è un sito che vi consente di monitorare la rata avete fatto voi di Assofin come funziona? Sì intanto mi fa sempre piacere parlarne in queste occasioni in questa trasmissione televisiva perché verifichiamo che quando ne parliamo c'è un picco negli accessi e quindi questo ci fa molto piacere dall'inizio dell'anno questo è ormai un servizio che funziona da tre anni abbondanti anni e mezzo dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 27 mila accessi di che cosa si tratta? in un sito c'è un calcolatore che è stato costruito dall'università Tor Vergata di Roma nella quale mettendo alcuni dati il consumatore attenzione è totalmente anonimo totalmente privo di qualsiasi finalità commerciale totalmente gratuito naturalmente mi appare la pubblicità della banca X piuttosto che della banca Y niente di tutto questo il consumatore che voglia verificare preventivamente la sostenibilità della rata cioè se è in grado o meno di pagare la rata immettendo naturalmente alcuni dati relativi alle sue introiti e alle sue spese ma anche il suo profilo socio-demografico sono un lavoratore dipendente nel pubblico piuttosto che nel privato piuttosto che autonomo lavori in provincia ho tre figli eccetera eccetera immettendo questi dati si ha come esito in una scala cromatica che va dal rosso al verde diciamo il pericolo più o meno elevato di sostenere quella rata naturalmente se si è nel verde si è in grado di sostenere senza altro quella rata se si è nel rosso invece no Foti invece per quanto riguarda la pubblicità qui parliamo spessissimo soprattutto quando facciamo riferimento ai finanziamenti a tasso zero quella che era un po' una cattiva abitudine di alcune banche di alcune finanziarie parlo al passato perché ci hanno garantito i colleghi di Assofin che ormai non è più così di mettere magari uno zero tondo grande grande come finanziamento e poi in piccolo il TAIG famoso con un'altra cifra un po' lontana dallo zero anche qui nell'ambito della collaborazione tra le associazioni Assofin ed Abi si è fatto qualche passo avanti che cosa? si sono fatti dei passi avanti anche perché da questa collaborazione diciamo è nata una pressione forte anche a livello istituzionale tant'è che è di prossima emanazione da parte di Banca Italia una nuova norma che interverrà in questo senso e chiarirà in maniera definitiva si spera come la pubblicità questo tipo di pubblicità deve essere fatta in modo da non trarre in inganno i clienti consumatori ma anche il lavoro dell'antitrust devo dire che è un lavoro che serve parecchio e spesso anche con questa istituzione come associazione riusciamo a avere dei rapporti che comunque danno dei buoni risultati danno dei buoni risultati invece Piano Mortari dovrebbe spiegare ai nostri telespettatori perché siete così contrari a queste agenzie che avete definito addirittura inopportune per l'assistenza del debitore era addirittura un'idea che era venuta immagino a letta nel decreto sviluppo leggo così ma voi avete detto che è un'idea inopportuna bisognava un po' aiutare chi era in difficoltà con le rate dei prestiti in realtà nulla a che vedere con l'idea di letta le agenzie debiti sono sorte ormai da qualche anno ma come dire lungi dallo svolgere attività di consulenze e di aiuto ai consumatori che invece svolgono benissimo le associazioni dei consumatori e lo fanno sostanzialmente gratis o comunque a fronte di diciamo un incompenso molto contenuto le agenzie debiti alcune agenzie debiti hanno funzionato in questo modo prima mi dai 500 euro prendo diciamo in esame la tua situazione e poi ti dico se si può fare qualcosa oppure no tendenzialmente il consumatore se ha dei diritti li può fare valere indipendentemente dal ricorso a soggetti come questi e magari facendosi aiutare se ne ha bisogno da un'associazione di consumatori che invece lo fa istituzionalmente e lo fa bene invece affidarsi a questi soggetti spesso vuol dire come dire peggiorare la propria condizione perché se non si addono diritti da far valere comunque bisogna pagare anticipatamente questi soggetti e poi come dire non si ottiene nessun risultato perché evidentemente se non ci sono le condizioni non si ottiene nessun risultato ci sono anche sborsati 500 euro Foti stasera c'è un'alleanza di ferro in questo studio perché concordo pienamente nel senso che anche noi noi non solo siamo contrari ma non a quelle di Letta delle quali sinceramente conosco poco la proposta ma a quella che è stata l'esperienza finora esistente e a conferma delle parole di prima noi come associazione dei consumatori stiamo ancora assistendo centinaia di persone che si sono rivolte a queste agenzie e sono state letteralmente truffate e queste agenzie poi praticamente addirittura sono fallite hanno chiuso sono sparite e quindi si sono presi soldi e intanto le persone hanno pagato giustamente come veniva detto in anticipo senza ricevere alcun tipo né di assistenza né di consulenza né di intervento rispetto alla propria condizione saprò quindi da approfondire quali erano le motivazioni del decreto sviluppo per rilanciare queste agenzie e ne torneremo sicuramente a parlare in una delle prossime puntate dei vostri soldi nella sezione dedicata al credito al consumo in particolare ai prestiti grazie a Giuseppe Piano Mortari direttore operativo di Assofin che ci ha fatto compagnia quest'oggi grazie che estendo subito a Giuseppe Foti responsabile di Consum per Milano io vi ricordo che la puntata di oggi si può rivedere dal sito internet www.milanofinanza.it non abbiamo avuto il tempo di dare un po' di risposte ai nostri telespettatori ma ovviamente le risposte sono solo rimandate di una settimana in questa sezione dedicata appunto ai prestiti prossima puntata dedicata invece ad assicurazioni e polizze torneremo ancora una volta sull'RC Auto grazie e la cortese attenzione a prestissimo con i vostri soldi grazie a tutti Grazie.